Prevenzione, collaborazione e maggiore attenzione al ruolo delle vittime per vincere la paura dietro la porta. Questo in sintesi il messaggio è arrivato dal convegno organizzato dalla FIDAPA Palazzo Ducale sul tema della sicurezza, anche alla luce dei recenti reati, furti, rapine, stolchi, in violenza sulle donne che sono ormai al centro delle cronache di tutti i giorni. Nell'incontro organizzato dalla Presidente Emiliana Martinelli, il questore Claudio Cracovia ha insistito molto sul tema della prevenzione e della repressione, che stanno dando risultati incoraggianti, ma più importante ancora, ha detto, è il lavoro che si sta facendo per arrivare ad un cambio di mentalità generale, che, passando da progetti culturali sull'integrazione e la legalità, arrivino a incrementare la percezione di sicurezza, favorita da un'attività di prevenzione che si basa molto sulla collaborazione dei cittadini stessi, prime sentinelle della legalità, oltre che naturalmente su moderni sistemi di indagine e una costante presenza sul territorio. Sulla stessa lunghezza d'onda, il colonnello Stefano Fedele, comandante dei Carabinieri, e Claudio Arpaia, già primo dirigente della Polizia di Stato, è oggi in pensione. Toccanti le testimonianze di alcune esperienze vissute, come quella della gioielliere Vittorio Bedonesi, rapinato da due banditi armati, e la professoressa Lisetta Lastrucci, rapinata e ferita brutalmente da due malviventi sorpresi in casa a rubare.